35enne di Santa Caterina arrestato in Belgio. L'uomo deve scontare un anno e dieci mesi di reclusione per rapine in concorso e sequestro di persona. Droga, arrestato un giovane, sequestrati oltre 250 grammi di sostanze stupefacenti tra hashish e marijuana. Servizio civile, 48 posti a casa Rosetta, domande entro il 10 febbraio. Sport, calcio, la storia si ripete, Nissa Acragas 0 a 1 a tempo scaduto come 44 anni fa. Bentrovati, un 35enne di Santa Caterina è stato arrestato in Belgio. L'uomo deve scontare un anno e dieci mesi di reclusione per una rapina in concorso e sequestro di persone. Domenica, nel corso di un'operazione in Belgio a Tongeren, le forze di polizia locale dell'Interpol, in collaborazione con il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia e con i militari della stazione Carabinieri di Santa Caterina Villarmosa nel Nisseno, a margine di un'articolata e approfondita attività info-investigativa, hanno individuato e catturato GDM di 35 anni, residente a Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta. L'uomo deve scontare la pena definitiva di un anno e dieci mesi di reclusione in quanto responsabile di rapina in concorso e sequestro di persona commessa a fiume di Nisi nel Messinese il 30 gennaio 2013. Dopo l'irrevocabilità della sentenza emessa dal Tribunale di Messina, l'uomo si era sottratto all'arresto e dal maggio 2019 risultava irreperibile. Così domenica è stato rintracciato e arrestato in seguito al mandato di arresto europeo e affidato a un carcere belga, in attesa di essere estradato in Italia, dove sconterà la pena. Arrestato un giovane per droga nel Nisseno, sequestrati oltre 250 grammi di sostanze stupefacenti tra Ascish e marijuana. I carabinieri della stazione di Niscemi, nel primo pomeriggio del 17 gennaio, hanno tratto in arresto un 26enne residente a Niscemi. Durante l'operazione di servizio finalizzata al contrasto del fenomeno e dello spaccio di sostanze stupefacenti, il giovane è stato trovato in possesso di oltre 250 grammi di droga, di cui una parte del tipo Ascish e una parte del tipo marijuana. Sono stati posti sotto sequestro anche un bilancino di precisione, materiale utile al confezionamento e del denaro, incondante ritenuto provendo illecito dell'attività di spaccio. Su disposizione del pubblico ministero di turno presso la procura della Repubblica di Gela, l'indagato è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa delle successive determinazioni dell'autorità giudiziaria. Nella mattina del 20 gennaio, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela ha convalidato l'arresto e ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Va al ristorante, consuma e non paga. Protagonista della vicenda, un 58enne si tratterebbe della seconda volta in 15 giorni. Si è seduto comodamente al ristorante, ha mangiato di tutto e poi si è alzato per andare via rifiutandosi di pagare. Così l'uomo di 58 anni, del Nisseno, a distanza di circa 15 giorni dall'ultima volta, ha colpito ancora. L'episodio si è verificato in un ristorante in via Chiarandà, dove il proprietario ha chiamato la polizia che tempestivamente è arrivata sul posto. In questo caso, però, il titolare del locale, mosso a compassione, avrebbe deciso di non denunciare e regalare il pasto all'uomo. Poco più di dieci giorni fa, il 14 gennaio, sempre lo stesso 58enne aveva cenato in un altro locale comportandosi allo stesso modo. Sembrerebbe che l'uomo sia in difficoltà economica e senza una fissa dimora. Stop immediato alle esecuzioni capitali in Iran. Massiccia partecipazione al sit-in dinanzi alla prefettura di Kaltanisset. Nonostante la pioggia e le temperature rigide erano tutti presenti i rappresentanti delle associazioni, dei sindacati, della politica, del mondo, della scuola, insieme a cittadine ai cittadini che venerdì si sono incontrati in sit-in davanti alla prefettura per dire a gran voce stop alle esecuzioni capitali in Iran e per consegnare l'appello da loro sottoscritto in cui si chiede alle istituzioni locali di farsi portavoce nelle opportune sedi del messaggio affinché siano intraprese ulteriori azioni diplomatiche. In questo momento è importantissimo perché solo facendo pressioni sui nostri governi, sui governi occidentali e sull'Unione Europea, noi possiamo sperare che la situazione in Iran cambi e in effetti qualcosa è cambiato perché il Parlamento Europeo ha votato con una maggioranza schiacciante una risoluzione che include i Pazdaran nella lista dei terroristi. Questo significa che le Nazioni Unite avranno possibilità di avviare un'indagine conoscitiva in quel paese e forse finalmente di far cessare queste crudeltà. Il volto di Masamini, il fermonò del popolo iraniano che si è riversato per strada in protesta. Si parla di 14.000 arresti in quattro mesi secondo i dati ONU e almeno 481 esecuzioni secondo l'ONG Iran Human Rights. Intanto proprio l'Iran nelle ultime ore ha visto l'arresto di altre tre giornaliste e 30 prigioniere politiche dal carcere di Evin a Tehran hanno chiesto che siano fermate le esecuzioni dei manifestanti. Tra le firmatari della richiesta anche la figlia dell'ex presidente Raf Sanjani. Servizio civile, 48 posti a Casa Rosetta, le domande entro il 10 febbraio. Sono 48 i posti disponibili per chi vorrà effettuare il servizio civile universale nelle strutture dell'Associazione Casa Rosetta. Gli aspiranti volontari da 18 e 28 anni dovranno presentare la domanda sempre attraverso la piattaforma nazionale entro il 10 febbraio. Una volta iniziato il servizio civile verranno impegnati per un massimo di 35 ore settimanali per 12 mesi, ricevendo, come prevede il bando governativo, un'indennità mensile. L'Associazione si riferisce al servizio civile come ad una grande occasione di crescita e formazione per i giovani, volenterosi di dedicare un anno della loro vita a favore di un impegno sociale e solidaristico, si legge, indirizzato al bene di tutti e di ciascuno. E quest'anno ha presentato tre progetti affini alle aree di intervento in cui l'Associazione opera da più di 30 anni nella visione del miglioramento continuo che caratterizza la missione al servizio dei più deboli, attraverso il valore aggiunto del volontariato sociale. Il progetto Superabile 2020, si legge ancora, mira al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità fisiche e disturbi psichiatrici ospiti delle strutture, al fine di incrementare e potenziare gli interventi legati alla mobilità, migliorare i processi di promozione e sviluppo delle capacità relazionali e favorire l'inclusione sociale e lavorativa. Il progetto Indipendenza 2020 propone come focus principale la presa in carico, l'assistenza ed il contrasto delle dipendenze patologiche e infine si legge il progetto Lavorando in Paro, Regione Lazio, riguarda i minori e l'equip all'interno delle comunità alloggio per minori nella gestione di reali processi di prevenzione, cura e riabilitazione dei minori. Protesta dei distributori di carburanti in tutto il territorio nazionale, previsti due giorni di chiusura. È tutto confermato, è tutto pronto per lo sciopero dei benzinai indetto per domani, martedì 24 gennaio. Nessuna marcia indietro, quindi. Al netto di clamorosi dietrofront, la serrata dei benzinai, compresi i distributori automatici, resta nonostante l'appello del ministro Adolfo Urso a desistere dall'intento, che sarebbe un danno per i cittadini. La chiusura per protesta dei distributori di carburante è confermata dalle ore 19 di domani 24 gennaio alle 19 di giovedì 26 sulla rete ordinaria e dalle ore 22 del 24 alle ore 22 del 26 gennaio sulla viabilità autostradale. Per questa ragione l'appello del ministro Urso sarebbe destinato a rimanere una vox clamantis in deserto, come dimostra la risposta delle principali associazioni di categoria, secondo cui lo stop era ed è confermato e le dichiarazioni del ministro, dicono, sono l'ennesima dimostrazione della confusione in cui si muove il governo in questa vicenda. Intanto diverse associazioni di consumatori si schierano dalla parte del ministro delle imprese del Made in Italy e minacciano a loro volta un controsciopero degli automobilisti in tutto il territorio nazionale, a meno che la serrata non venga revocata. L'iniziativa a cui si sta lavorando e su cui si spera ci sia un coinvolgimento di tutte le associazioni, dicono da ASSO utenti, cercheranno di convincere le persone a non fare benzina per due o tre giorni, in alternativa di fare il pieno solo nei più convenienti distributori automatici o di pagare il benzinaio con il metodo del POS e non con i contanti. Sospendere in modo totale il servizio per 48 ore sulla rete urbana e sulle autostrade sia per la modalità servito che per il self-service rappresenta un atto abenorme che creerà enormi e ingiustificati danni ai cittadini, tuone il Kodakons. Uno sciopero che appare ancora più immotivato e sbagliato se si considera che il governo, su richiesta degli stessi benzinai, ha anacquato il decreto trasparenza, eliminando l'obbligo di indicazione giornaliera dei prezzi medi e riducendo drasticamente le sanzioni per i distributori scorretti. Non si è fatta attendere la replica della premere Giorgia Meloni, che da Algeri ha ribadito «Li abbiamo convocati già due volte, il provvedimento è giusto, non si torna indietro». A San Cataldo, benedizione degli animali in Piazza Sant'Antonio. Dopo la Santa Messa delle ore 17 e la benedizione del pane, tanti fedeli hanno atteso nella Piazza Sant'Antonio Abate a San Cataldo domenica 22 gennaio la benedizione degli animali, un momento di festa e di preghiera. Quest'ultima è iniziata qualche giorno prima con il triduo di preparazione in onore di Sant'Antonio Abate, una ricorrenza che è stata celebrata nell'omonima chiesa e che ha visto la partecipazione di tanti sancataldesi. Benedetti anche i frutti della terra, nella Piazza Antistante per l'occasione sono stati allestiti degli stand in cui erano presenti alcuni prodotti agroalimentari, a cura della Coldiretti. Per combattere il freddo sono stati offerti dei ceci caldi, una degustazione curata dal Comitato dei festeggiamenti. In verità giorno 17 abbiamo festeggiato Sant'Antonio Abate e l'abbiamo portato di domenica per vivere anche questo momento in questo quartiere. Le feste aiutano anche a far incontrare le persone, a far vivere e condividere i frutti della terra, che gratuitamente tante aziende hanno messo a disposizione, dal vino al formaggio, alla ricotta, ai ceci. E' il bello dello stare insieme, del condividere. Abbiamo bisogno di tanta unità e tanti momenti. E in questo i santi ci riescono. Il freddo non ha intimorito la città, non ha intimorito i San Cataldesi. Siamo qui ancora nel nostro centro storico. Ringrazio la Coldiretti per la sagra. Come amministrazione siamo stati ben lieti di mettere a disposizione anche i nostri stand per far gustare ai San Cataldesi quello che è la ricchezza del territorio e i nostri prodotti locali. Per cui Sant'Antonio Abate in questo caso ha veramente fatto il miracolo riempiendo questa piazza. San Cataldo celebrava contemporaneamente il settimo anniversario del gemellaggio con il comune di Milena, nel nome di Sant'Antonio Abate. Da Caltanissetto al programma Soliti Gnoti. Un'esperienza da ricordare per Mario Di Marco, sabato scorso, su Rai 1. Una puntata dei Soliti Gnoti, quella di sabato scorso, con 44 mila euro in palio. Nella rosa delle identità finali da scoprire c'era anche Mario Di Marco, l'ignoto con il numero 2. che ha messo in crisi fino in fondo i due concorrenti che purtroppo non hanno vinto. Un'identità nascosta alla sua da 64 mila euro è l'indizio che rimandava ad una somiglianza con Eros Ramazzotti. Nella stessa puntata, tra gli ignoti, anche la conduttrice Nunzia De Girolamo che a breve partirà con il suo nuovo programma Ciao Maschio. Mario Di Marco è un imprenditore nisseno che da 20 anni crea profumi nell'azienda di famiglia insieme a sua moglie Enza Pisa e alle due figlie Federica, 33 anni e Darila 27. È stata un'emozione davvero grande e molto bella, veramente. Ho paura di non ricordare quello che dovevo dire se mai mi avessero chiesto gli indizi. Però per fortuna ci sono riuscito, quindi è andato tutto bene. In questione ero chiaramente chiesto a chi somigliavo nel passato e ho detto Eros Ramazzotti. Amadeus mi ha detto il preciso, wow, a modi battuti. È stato veramente anche molto bello conoscere gli altri ignoti. Abbiamo fatto davvero una bella amicizia. Siamo usciti insieme e integravamo lì a Roma. E poi anche l'ingresso al storico teatro delle Vittorie. Tutto bello, anche nei camerini, lì percorrere tutto. Davvero una bella emozione. Io ho mai stato in una cosa del genere, in un programma del genere. Quindi molto bello davvero. Una bella esperienza quindi quella di Mario, che essendo da sempre creativo e appassionato di musica, dopo anni di esperienza nelle radio libere, e ancora oggi è il DJ che fino a tarda notte anima le serate di chi apprezza le sue selezioni musicali. Sport, calcio, Serie D, San Cataldese sconfitta. Canicattì una partita decisa da un calcio di rigore. Si ferma dopo due vittorie consecutive il cammino virtuoso della San Cataldese nel girone I di Serie D. La squadra Verda Maranto deve arrendersi al Canicattì che grazie alla vittoria di misura arrivata nel finale su calcio di rigore si è giudicato il pomeriggio del Saraceno di Ravanusa. La formazione di Pidatella ha avuto la meglio dopo 90 minuti di equilibrio, con la San Cataldese finite nove uomini a causa dell'espulsione nella ripresa di Touret e Oppizzi. Per i Biancorossi una vittoria preziosa per la classifica. Sono 23 punti ottenuti e decimo posto. Per la San Cataldese invece è una sconfitta che non preoccupa, ma che certamente dovrà essere dimenticata a partire da domenica prossima, quando al Mazzola arriverà il Lamezia Terme. Prosegue intanto il monologo del Catania, che continua la sua marcia trionfale verso la Serie C. Ieri al Massimino e Licata si è dovuta arrendere alle quattro reti di Sarao e compagni. In coda si segnala la vittoria della cittanovese contro il Real Aversa e il blitz della C-Reale in casa della Lamezia Terme. Questi risultati la classifica dopo la ventesima giornata del campionato di Serie D, Girone I, Castrovillari-Vibbonese 0-1, Catania-Licata 4-1, Cittanovese-Real Aversa 1-0, Lamezia Terme-Città 10-Reale 0-1, Locri-Ragusa 6-1, Paternò-Trapani 0-0, Mariglianese-San Luca 1-4, Canicattì-San-Cataldese 1-0, Città di Sant'Agata-Santa Maria-Cilento 5-2. Per una classifica che vede il Catania sempre più in fuga a 51 punti, seguito da Locri a 37, Lamezia Terme 36, Città di Sant'Agata 35, Vibbonese 34, Licata 32, Trapani 28, Santa Maria-Cilento e San Cataldese a 25 punti, Canicattì-San Luca-Città 10-Reale 23, Ragusa-Calcio 22, Cittanovese-Real Aversa 21, Castrovillari 20, Paternò 16, chiude la Mariglianese a 11 punti. Per il Castrovillari e il Canicattì una partita in meno. Eccellenza Nissa battuta in casa dall'Akragas a tempo scaduto come in un derby del 1979. 11 novembre 1979, Stadio Palmintelli, derby di Serie D tra Nissa e Akragas. A tempo scaduto i Biancazzurri portano via due punti con un gol rocambolesco di Matteo Colucci, oggi dirigente a Cragantino. Una rete messa a segno su calcio d'angolo. Il portiere biancoscudato Macellari para, ma il pallone termina oltre la linea di porta. 22 gennaio 2023, la storia si ripete. Esattamente come 44 anni fa, pure a tempo scaduto, l'Akragas conquista la vittoria in prossimità del triplice fischio finale con un guizzo di Barrera. Stavolta lo stadio è il Tomaselli ed i punti gli agrigentini ne portano a casa tre. E pensare che pochi minuti prima del fortunoso gol vittoria, la dea bendata aveva voltato le spalle all'Akragas dagli 11 metri tirando un calcio di rigore. L'ex biancoscudato Desiderio Garufo si vedeva negare la gioia del gol dalla traversa. Ma la Nissa di ieri, bella a metà, ha pagato a caro prezzo l'assenza di un finalizzatore in grado di fare la differenza. E forse si spiega anche per questo l'andamento singhiozzante della squadra allenata da Alessio Sferrazza, che per quanto fatto vedere in campo contro la prima della classe meriterebbe tutt'altra posizione di classifica. Certo, chissà quale piega avrebbe preso la partita se dopo un minuto Ottaviano avesse fatto gol da posizione favorevole. E chissà se fosse andato in campo sin dall'inizio o comunque abbondantemente prima dei minuti finali il giocatore di maggiore qualità del reparto avanzato, quel Faramarna che si era fatto apprezzare fin dal suo arrivo a novembre con una prodezza alla Zappalà. Ma nel calcio, si sa, i sé e i ma non contano e alla fine festeggia l'Akragas che fino all'ultimo secondo ha cercato l'acuto dopo aver sfiorato più volte, al di là del rigore, l'appuntamento con il gol. Due occasioni su tutte allo scadere del primo tempo con Locascio, eccellente la risposta del portiere Nisseno che si ripete poco dopo su una conclusione di Neri. I risultati della diciottesima giornata del campionato di eccellenza Girone A Casteldaccia Oratorio Marineo 0-0 Don Carlo Castellammare 5-1 Enna Gela Rinviata Leonfortese Profavara 0-0 Mazzara Parmonval 3-0 Resuttana Mazzarese 1-1 Sciacca Cus Palermo 5-1 Nissa Acragas 0-1 La classifica Acragas 45 punti Enna 41 Profavara 38 Don Carlo 36 Mazzara 32 Mazzarese 31 Sciacca 30 Casteldaccia 24 Nissa 22 Oratorio Marineo 19 Castellammare Leonfortese 17 Gela 12 Resuttane Cus Palermo 11 Parmonval 8 La voce dei protagonisti di Nissa Acragas in Sala Stampa Matteo Colucci a Caltanissetta Una vittoria che è arrivata nel finale E ricorda molto quel gol fatto proprio Da Colucci al Palmintelli Che gelò lo stadio Sì, in effetti Mi sono venuti in mente quei ricordi Quei ricordi di quella famosa partita A proprio a tempo scaduto Che ho fatto gol direttamente dalla bandierina Abbiamo vinto 1-0 Palla a 100 E finita la partita Com'è cambiato nel tempo questo derby? Ma io penso che il derby di una volta era tutta altra cosa Anche come ambiente Anche se oggi ho visto un bel pubblico a Caltanissetta Penso che il calcio di allora era tutta altra cosa Partite più sentite, più agonismo I giocatori di alto livello Diciamo che i derby sono sempre partite sentite Io mi auguro che sia la Nissa che l'Acragas Sicuramente meritano categorie superiori Non meritano di stare in queste categorie Ho visto l'impianto del Tomaselli Uno stadio favoloso Speriamo che in futuro Diciamo che queste squadre si possano trovare Nelle categorie che meritano Il vostro vicepresidente aveva detto Vi è tanto pareggiare, solo vincere Avete fallito un calcio di rigore al finale Poi il gol che vi ha premiato Ma questa Nissa ha sofferto tantissimo E rischiava anche di perdere Sì, abbiamo sofferto il giusto Nel primo tempo credo che ci siano ancora Abbiamo visto ancora le scorie della partita della Coppa Italia Non era facile, non è stato facile Anche perché questa squadra Fino alla partita di mercoledì Ci aveva abituato a grande prestazione A grande gioco Oggi abbiamo incontrato un avversario difficile Che ci ha messo in difficoltà Però ricordiamoci che l'Acragas Ha cercato la vittoria fino alla fine Con grande equilibrio Ci ha creduto Abbiamo fallito il rigore Abbiamo continuato a cercare il gol della vittoria E poi ci siamo riusciti Questi ragazzi sono da premiare Ringraziamo i tifosi, quelli veri Quelli che ci hanno dato una mano A rialzarci dopo la brutta scoppola di mercoledì L'approccio l'ha soddisfatto Almeno nella prima parte della partita L'abbiamo visto una Acragas Che proprio non ha convinto No, assolutamente Ho detto che nei primi minuti Nei primi dieci minuti Forse dodici minuti Forse quella brutta prestazione di mercoledì Ancora era nella nostra testa E quindi Poi abbiamo preso campo Abbiamo preso le misure all'avversario Che onestamente non è un avversario Non è l'ultimo arrivato La Nissa C'ha dei giocatori importanti C'ha dei giocatori individualmente forti E dal cambio dell'allenatore Ho cominciato pure a giocare bene A giocare a calcio Anche perché su questa superficie Non puoi fare altrimenti Quindi è merito ancora a questi ragazzi Che dopo tre giorni infernali Hanno raggiunto una vittoria importante Oggi il destino ha premiato l'Agras E l'anno buono per il salto di categoria Credo che l'Agras sia stata premiata Perché ci ha creduto Non credo al destino Evidentemente era più bello vincere in questa maniera Dopo aver fallito un calcio di rigore Quindi spero che la prossima volta I ragazzi magari la sbloccono un po' prima Così soffriamo un po' meno Cosa è passato alla testa di Garufo Dopo quel calcio di rigore? È passato un momento Che in carriera non l'ho vissuto mai Perché a volte ti senti forte Ma in quei momenti poi magari Ti passa tutto ad un tratto Anche perché ti senti la responsabilità Di un gruppo sano Di un gruppo forte Di una società E di una tifoseria Che merita quello che stiamo facendo Però va dato merito alla Nissa Secondo me Una grande squadra Per questa categoria Merita sicuramente Di stare in classifica Molto più in alto E va dato onore Perché hanno giocato una partita onesta Una partita dove ci siamo rispettati Entrambe le squadre All'inizio e alla fine C'è delusione per questo risultato Si era vista una Nissa intraprendente Poi qualcosa evidentemente Non ha più funzionato E alla fine L'Akragas che ci ha creduto Ha vinto la partita Ma Noi sapevamo che giocavamo contro Una corazzata La squadra che Assieme all'Enna Si gioca là Il titolo Insomma Quindi Facile non era Né per noi Né per loro Infatti è stata una bella partita Diciamo che All'inizio È andata bene in campo Poi Chiaramente I valori Escono fuori Però ce la siamo giocati Peccato Perché Quando mancano due minuti Al fischio finale Bisogna tenere alta La congeliazione E questo calo Di congeliazione Poi Chiaramente Lo paghi Lo paghi con tutte le squadre E figuriamoci Contro una squadra Che Deve provare a vincere il campionato Alessio Sferrazza Una sconfitta Che è arrivata nel finale Una lista Che ha giocato bene Forse qualche sostituzione È arrivata tardiva No Devo fare i complimenti I ragazzi Hanno fatto una grande prestazione Contro la prima in classifica Penso che Ce la siamo giocati Alla pari Potevamo fare gol Nel primo tempo Come lo potevamo fare loro Non abbiamo giocato Per il punticino Ma abbiamo cercato Di portare L'intera L'intera Somma L'interi tre punti A casa Purtroppo poi Al 95esimo Abbiamo fatto una disattenzione Su un fallo laterale Ci hanno punito Facciamo i complimenti All'Agra Che è stata una gran Bella squadra E merita di essere Al primo posto La squadra L'ha messa in campo Tornando indietro La rimetterebbe Sì sì Sono soddisfatto di tutti Per quello che mi hanno dato Anche chi è subentrato Mi ha dato delle soddisfazioni Ha nuato l'anima Ha nuato Tanto impegno Tanta dedizione Abbiamo provato Abbiamo provato E fatto quello che Per cui lavoriamo Durante la settimana Quindi sono veramente soddisfatto Purtroppo mi dispiace tantissimo Per non aver regalato Dei punti ai nostri dirigenti I nostri tifosi E a noi stessi Si sta creando Un bel rapporto Con il pubblico La cosa più importante È questa Se oggi non ci fosse stata Una giornata Da quasi zero gradi E con la pioggia Io penso che saremmo stati Quadruplo Perché vedo che c'è Tanto interesse Attorno a questo progetto E con tutto questo Oggi c'era un numero Sufficiente di persone Piene di entusiasmo Piene di voglia di divertirsi E la cosa più importante È questa Perché se restiamo tutti uniti Prima o poi I risultati arriveranno Sta pensando al futuro Sì si sta pensando al futuro Lo sapete tutti C'è un nostro attuale sponsor Che vuole portare avanti Un progetto molto ambizioso Sta a noi nisseni Stargli vicino Contribuire E dare un'impronta vincente Io ci credo tanto Però dobbiamo anche fargli percepire L'entusiasmo di questa città Perché Caltanissetta Da questo punto di vista Potrebbe avere veramente Delle grandi potenzialità Chiunque viene a giocare qua Resta incantato Da tutto l'ambiente E adesso Dobbiamo lavorare Per farlo diventare Ribollente È tutto Vi lascio al Meteo Alle informazioni di pubblica utilità Grazie per l'attenzione Appuntamento rinnovato Alle prossime edizioni Ben trovati a un aggiornamento Con le previsioni di Trabi Meteo La situazione è per martedì Quando ancora Il Mediterraneo Sarà sede Di una circolazione Di bassa pressione In quota Anche se tenderà A perdere vigore Sull'Italia Rispetto ai giorni precedenti Oltre alpe Invece notiamo Questo esteso Campo di alta pressione Dall'oceano Verso l'Europa orientale Nel dettaglio Ecco la mappa Delle precipitazioni Zoom Europa meridionale E ancora Delle precipitazioni Che interesseranno Maggiormente la Sardegna Parte della Sicilia E poi in giornata Tornerà qualche fenomeno Anche al nord In sintesi La mappa dell'Italia Questa spiccata variabilità Dappertutto Tra sole E qualche annuvolamento Dei piovaschi Dei rovesci Tra Sardegna Soprattutto La Sicilia Occidentale Notiamo Della nuvolosità Della variabilità Anche al nord Qualche piovasco Qui più probabile Nella seconda parte Del giorno Temperature In lieve Aumento Comunque il clima Sarà sempre invernale Tutti i dettagli precisi Scaricando L'app Di Trapi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Pasqualino Via Xiboli Villaggio Santa Barbara Servizio notturno Del Corso Corso Vittorio Emanuele Corso Vittorio Emanuele Corso Vittorio Emanuele Corso Vittorio Emanuele